L'allievo non è riuscito a superare il maestro. La Samba Cremona si vede interrompere la serie positiva che durava da 5 giornate, ma ritrova il gol. Lele Morini regala l'illusione di un pareggio dopo aver accorciato le distanze, ma Bianchi compie il miracolo e infrange i sogni rosso-blu di riportare un punto a casa. Il primo tempo è stato equilibrato. Sia la cremonese che la Samba hanno tentato di sbloccare il risultato, ma è nel secondo tempo che si decide la gara, in meno di un quarto d'ora. E gore ad aprire le danze, con un'azione personale sulla fascia destra. Il Lombardo dribbla la difesa marchigiana e dall'area di rigore infila con un proiettile la porta protetta da Dazzi, che nulla può. Dopo pochi minuti c'è il raddoppio da parte dei locali, con Saverino che batte una punizione e la palla finisce dritta in rete, dopo aver accarezzato la traversa. Il porterone rivierasco si tuffa, ma non ci arriva. Cremonese 2, Samba 0. I rosso-blu però non ci stanno a tornare a casa a mani vuote. E al ventiquattresimo Morini concretizza una punizione dal limite dell'area, accorciando le distanze. La Samba, dopo la rete del centrocampista romano, ha la consapevolezza di potercela fare. E ce la mette tutta per strappare almeno un pareggio alla blasonata cremonese. I grigiorossi si impauriscono della furia dei marchigiani. Ed è grazie a Bianchi che i locali non devono rinunciare alla vittoria. A pochi minuti dalla fine, infatti, è il portiere Lombardo a compiere un miracolo su una fucilata di Morini. Il rosso-blu, infatti, conquista palla e dai 30 metri tira l'indirizzo della porta protetta da Bianchi. Ma questo con uno scatto felino devia in corner. L'ultima emozione per i marchigiani la regala Moe in pieno recupero. Il difensore riceve un pallonetto da briglia, ma trovato sia tu per tu con il portiere cremonese, viene anticipato da un difensore che in scivolata gli ruba palla. La Samba chiede il rigore, ma per l'arbitro è tutto regolare. Un punto perso, ma un Morini ritrovato. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, ma anche la consapevolezza che questa Samba c'è a dispetto di chi non ci credeva e contro la protesto ora deve dimostrarlo.